come di consueto alle ore 7 ci sono le campane della chiesia che suonano oltre ovviamente alle macchine praticamente di tutto allora 15 modi per vincere in ogni comunicazione mi sono fatto il foglietto degli appunti questo è un articolo che ho trovato su Esquire l'ho reputato abbastanza interessante ci sono diversi punti che secondo me sono sono utili e quindi prendo questo articolo come spunto per fare questa diretta poi magari ne estrapolo qualcuno e ci faccio un video dedicato perché penso che possa essere una cosa veramente interessante vediamo i capelli come stanno oggi direi meno peggio del solito sempre abbastanza lula palula she's my baby allora anzi no bibap lula allora intanto vedo che la gente si inizia a collegare ovviamente se sentite casino è perché sono per la strada perché ovviamente poi più tardi ciao simona ciao simona ma che bello che mi salutate così vedo anche chi c'è a vedere la diretta perché altrimenti non non vi vedo si sono tornato perché ero ero in vacanza ero in puglia e quindi chiaramente essendo fuori dal mondo non perché tutta la puglia sia fuori dal mondo ci mancherebbe però in particolare dove ero io era una riserva naturale quindi zero connessione internet non ho potuto neanche aggiornare gli stati non potevo fare niente va bene allora ragazzi questi sono 15 punti quindi c'è un bel po l'allergia ciao paparone l'allergia mi ammazza sono 15 punti quindi iniziamo subito belli freschi a vedere quali sono allora 15 punti per vincere in ogni comunicazione per ottenere dei bei risultati nella comunicazione allora se volete che l'interlocutore sia d'accordo con voi annuite mantenete il contatto con gli occhi allora riguardo l'annuire sono abbastanza d'accordo in realtà sono d'accordo sul creare un rapporto empatico positivo il cosiddetto rp mantenere il contatto con gli occhi è sicuramente molto importante perché ci aiuta a rimanere focalizzati e soprattutto ci aiuta nel leggere il linguaggio del corpo soprattutto ci sono molte persone o meglio la maggior parte delle persone si sentono non ascoltate se non vengono guardate io ad esempio sono una di quelle cioè se voi parlate con me non potete parlare con me contemporaneamente guardare da qualche altra parte o fare altro poi molto spesso mi si risponde no ma io ascolto con le orecchie non con gli occhi però guardare negli occhi le persone per farle sentire ascoltate è molto importante quindi diciamo punto numero uno contatto con gli occhi ancora di più che annuire punto numero due qui parla delle mani fredde avere le mani fredde non crea un buon rapporto iniziale questo è vero quindi se avete spesso le mani fredde vi consiglio di ciao mari vi consiglio di dato che spesso le mani fredde dipendono da una cattiva gestione emotiva oltre che chiaramente dalla circolazione vi consiglio di allenarvi con tecniche di rilassamento con tecniche di gestione emotiva spesso ad esempio durante i colloqui di lavoro questa è una cosa che noto quando le persone mi danno la mano hanno la mano gelida o gelata perché sono molto tese quindi imparando ad avere una migliore gestione emotiva si riesce a risolvere questa questione delle mani fredde che sicuramente non dà un buon impatto iniziale punto numero tre qui dice osservare il colore degli occhi questo lo possiamo unire al punto numero uno perché in realtà l'obiettivo del guardare il colore degli occhi non è quello di notare il colore degli occhi ma è uno stratagemma per riuscire a mantenere il contatto visivo quindi diciamo direi punto numero uno mantenere il contatto visivo il contatto oculare scusate e come strategia notare il colore degli occhi delle persone punto numero quattro le persone tendono a ricordare meglio quello che viene detto all'inizio e alla fine di un discorso questo è assolutamente vero si studia anche per quanto riguarda le tecniche di apprendimento intanto davanti a me sta passando il mondo che giustamente mi vede parlare con il telefono e vabbè e ad esempio qui consiglia in un colloquio di lavoro cercare di essere o i primi o gli ultimi oggi ho fatto un colloquio di lavoro e sicuramente se non avessi preso appunti se non avessi utilizzato qualche tecnica di memoria per ricordarmi le persone probabilmente tutte quelle in mezzo a parte qualcuno che ha detto qualcosa più di particolare tipo uno che ha parlato della macchia che aveva sui pantaloni non li avrei ricordati sicuramente sì e un'altra cosa importante nel public speaking è fondamentale all'inizio cercare di fare una buona impressione quindi prepararsi molto bene le prime battute public speaking potrebbe essere un colloquio di lavoro o gli esami di maturità dato che siamo vicini agli esami universitari di maturità e poi alla fine fare un super riassunto questo in generale quando si tengono conferenze di tutto quello che si è detto perché c'è l'effetto primacy e recency cioè le cose che diciamo per prima e le ultime quelle rimangono più impresse quindi fare una buona impressione e alla fine riassumere tutto quello che abbiamo detto sicuramente sì poi punto numero 5 i piedi rivelano molto di quello che stiamo pensando ad esempio quando parliamo con le persone i piedi indicano il posto dove le persone vorrebbero andare vi faccio un esempio concreto se in un gruppo di 10 uomini arriva una donna voi vedrete che almeno un piede di ogni uomo o di quasi ogni uomo punterà verso la donna perché i piedi essendo più lontani dal cervello sono più difficili da controllare quindi quando accade qualcosa se noi vogliamo dissimulare riusciamo a controllare le mani ad esempio quando una persona non si vuole far scoprire in un pensiero che sta facendo guardate i politici ad esempio tendono ad avere qualcosa in mano bloccare la comunicazione se stanno mentendo ad esempio bloccando la comunicazione delle mani ma si bada molto di meno i piedi che quindi sono un ottimo segno rivelatore poi punto numero 6 in un gruppo di persone questa è molto carina in un gruppo di persone quando si scoppia a ridere si cerca immediatamente il contatto oculare con la persona con la quale si ha il rapporto migliore quindi quando scoppia una risata se guardate le persone che si guardano a vicenda quelle sono quelle che fra di loro hanno il rapporto migliore o ad esempio quelle che si piacciono di più ok poi lo potete declinare anche nel rapporto uomo-donna ovviamente punto numero 7 utilizzare il potere del silenzio o delle pause utilizzare le pause nella comunicazione è fondamentale perché ci aiutano a sottolineare certi punti la pausa che ho fatto adesso ad esempio sottolinea quello che dico dopo o possiamo utilizzarle per dare la possibilità alle persone di riflettere su quello che abbiamo detto come la pausa che ho fatto in questo momento possono essere utilizzate in due modi diversi punto numero 8 se prevedete che qualcuno vi attaccherà ad esempio in una riunione sedetevi accanto a lui questa è un'attima strategia perché la vicinanza fisica permette meno alle persone di aggredirvi portiamo questa cosa alle estreme conseguenze internet porta le persone a essere molto più aggressive perché ci si sente protetti dal filtro del computer meno fate sentire le persone protette meno saranno propense ad attaccarvi quindi avvicinarvi fisicamente ma non in maniera minacciosa in maniera amichevole le porteranno ad attaccarvi questo se lo fate prima che vi attacchino se lo fate dopo invece fa scattare l'aggressività se voi vi dimostrate amichevoli nel momento in cui una persona vi aggredisce questo le fa diventare ancora più aggressive è un sacco di carne al fuoco è veramente interessante sto cosa che ho trovato perché sintetizza tanti argomenti poi questa è un'altra cosa fighissima chiedere alle persone di farvi dei favori le rende più ben disposte nei vostri confronti sono stati fatti un sacco di studi psicologici da questo punto di vista rende più predisposta in maniera positiva una persona nei vostri confronti farvi dei favori e non che voi facciate dei favori a loro è controintuitiva questa cosa ma il motivo è che nel momento in cui voi portate una persona a farvi dei favori il suo cervello interpreta questo come ah ok quindi io sono ben disposto nei confronti di questa persona ciao Stefano alla grande ci sei anche tu ottimo ragazzi guardate sto video sta venendo un po' figo perché è un sacco di roba poi ecco questo è un altro punto ricordarsi il nome delle persone allora vi do una regoletta una regoletta di comunicazione e public speaking in un dialogo con una persona diciamo di almeno 5 minuti 10 minuti cioè una bella chiacchierata con una persona ripetete almeno 3 volte il suo nome ripetere almeno 3 volte il nome della persona la rende positiva nei nostri confronti perché è stato studiato che il nostro nome è uno dei suoni più belli che riusciamo a sentire perché è chiaramente associato in maniera positiva è associato a attenzione ai nostri confronti si insegna proprio nelle tecniche di vendita ripetere il nome della persona la porta ad acquistare più facilmente è vero la responsabilità scatta lui si fida di me esatto ti riferivi a quello che dicevo prima il favore ok chiedere dei favori rispecchiare il linguaggio del corpo questo è tutto un mondo c'è il mondo del rispecchiamento diciamo che compiere dei gesti simili alle persone le rende più positive nei nostri confronti allora ciao Pasquale allora consiglio per quanto riguarda il rispecchiamento non scimmiottate ma fate qualcosa che sia simile non uguale aspettando una decina di secondi dal momento in cui la persona ha compiuto il gesto ad esempio la persona si avvicina fa il cosiddetto avvicinamento prossemico voi non vi avvicinate immediatamente fate un gesto di avvicinamento dopo una decina di secondi che potrebbe non essere un avvicinamento con il corpo ma ad esempio un portare avanti una mano come sto facendo io in questo momento quindi simile non uguale aspettando una decina di secondi questa è una cosa che noi facciamo spontaneamente quando siamo in sintonia con le persone farlo ci mette in sintonia con le persone quindi è bionivoco è PNL è super efficace sta roba qua se avete fretta questo è carino se avete fretta state camminando in mezzo alla folla puntate gli spazi vuoti in mezzo alla folla e non le persone perché questo vi permette di acquisire maggiore velocità questo non c'entra con l'avere un buon rapporto con gli altri questo c'entra più che altro con le dinamiche della nostra mente quindi ci vado più veloce poi gli ultimi tre punti punto numero 13 questo è fighissimo questo riguarda il rapporto uomo-donna l'ho inserito in uno dei miei ultimi video fare delle attività emozionanti con una persona farà associare a questa persona delle emozioni a noi cioè se voi andate con una persona sulle montagne russe quell'eccitazione quella persona la associerà oltre che le montagne russe anche a voi questo è uno dei motivi per cui in genere quando un rapporto uomo-donna inizia è molto emozionante va molto bene perché facciamo tante cose nuove poi smettiamo di fare cose nuove e quella noia non dovuta alla persona ma dovuta alle azioni noiose che noi facciamo alle attività noiose noi la associamo invece alla persona così come il fatto del tradimento che è eccitante noi associamo quell'eccitazione più che quell'eccitazione attenzione quell'eccitamento alla persona invece è la situazione del tradimento che è eccitante non è quella persona che è eccitante infatti puntualmente quando poi nel caso in cui con quella persona ci si fidanza passa l'eccitazione del tradimento no? la cosa particolare e quella persona diventa normale quindi perdiamo interesse altra cosa figa ecco il miglior modo per imparare e insegnare sì che poi non c'entra niente col rapporto con le persone questo in realtà c'entra più con l'apprendimento ma in questi articoli ci buttano sempre di tutto e di più però interessante quando imparate qualcosa fate come i bambini raccontate quella cosa in giro perché lo spiegarlo ad altri vi aiuta ad apprenderlo meglio ad esempio io consiglio durante il corso di apprendimento di vedersi con i compagni una volta alla settimana e interrogarsi a vicenda è molto più efficace che ripetere ad alta voce l'interrogarsi a vicenda spiegare l'un l'altro c'è Davide grande Davide ciao Davidino l'ultimo punto di questi 15 forse il più importante cerchiamo di capire quali sono le impressioni positive che le persone hanno di sé e confermiamole cioè ognuno di noi ha un'idea di sé sulle cose positive e le cose negative raramente corrisponde alla realtà tranne se una persona è capace di grande introspezione ha fatto un grande lavoro su di sé ce ne dobbiamo fregare dobbiamo scoprire cosa di positivo questa persona pensa di sé e confermare quelle impressioni ho fatto un video su valori credenze che pubblicherò insomma più in là e questo video spiega come estrapolare valori e credenze delle persone quindi è proprio tutto un video su questo punto guardate io praticamente su ognuno di questi punti ci ho fatto un video quindi se ve li guardate la mattina quando li pubblico poi analizzeremo questi migliaia milioni di altre cose allora non so se avete seguito la vicenda dell'Aquarius che è la nave che vabbè adesso è stata accolta dalla Spagna fuori dalla questione politica lo ha analizzata da un punto di vista psicologico cioè perché alcuni dicono che bisogna accogliere questa nave nei nostri porti e altri invece dicono che i porti vanno chiusi e non va accolta domani l'analizza un punto di vista sia psicologico psicologico che comunicativo domani mattina alle 8 pubblico questo video che ho fatto oggi in fretta e furia perché la questione era molto interessante sono state fatte delle ricerche riguardo la morale morale religione evoluzione ambiente studi su 250.000 persone in 120 paesi nel mondo insomma una cosa fighissima e l'ho riassunto tutto in 2-3 minuti ho fatto questo video domani mattina lo pubblico sulla mia pagina su facebook alle 8 ragazzi spero che sia stato interessante questi 15 punti poi comunque lo lascio sulla mia pagina quindi se non siete riusciti a vedervelo tutto quanto ve lo potete vedere poi dopo lo lascio sulla pagina ragazzi ci vediamo domani mattina alle 8 penso anche domani sera alle 7 per l'altra diretta buona serata grazie